Sono qua oggi in realtà perché da un lato per il sostegno a una lotta popolare che mi sta un sacco a cuore, non da oggi ma in realtà da 15 anni, da quando si è cominciato a parlare anche che questa lotta è arrivata a Roma nel 98, 99 o in quel periodo lì. So qua perché poi penso che è particolarmente pericoloso quando le lotte popolari e il dissenso vengono trattati e ridotti a tema di ordine pubblico e poi nel caso specifico dei quattro arrestati con accusi di terrorismo non diventa neanche più una questione di ordine pubblico, diventa una questione di reversione dell'ordine democratico eccetera e sono tutti dei meccanismi che sono quanto di più lontano se sta anche da un'idea di democrazia che più o meno è condivisa. Mi sembrano di sostare qua oggi.